eccoci siamo nell'azienda di Mirko Pietrini come vedete questi sono cinque ettari trapiantati a pomodoro guardate che bellezza oggi è il 17 16 16 di maggio Mirko dimmi un po cosa hai fatto che a questi pomodori una volta preparato il letto di semina si è fatto il trapianto e si è messo subito la manichetta accanto e poi dopo hai fatto il trapianto scusami il 16 di aprile ok questi sono stati messi quindi un mese un mese preciso dopo dopo dieci giorni che sono stati trapiantati gli si è dato il prodotto un distillato di legna che mi hanno mandato e questo è il risultato perché hanno preso quello e basta sì che perfetto è stata fatta una cerchiatura hai fatto anche un passaggio fogliare un passaggio fogliare con sempre con distillato quando l'hai fatto l'ho fatto sono dieci giorni ora dieci giorni adesso perfetto Mirko quindi vediamo questo sviluppo della pianta ora andremo a vedere delle piante che invece che sono state trapiantate due giorni dopo e non sono state trattate con distillato siamo al 16 di maggio questi sono altri cinque ettari dell'azienda agricola di Mirko Pietrini e sono stati piantati due giorni dopo rispetto ai pomodori che abbiamo visto precedentemente e non sono stati trattati con distillato di legno come potete vedere le piantine sono belle ben sviluppate però hanno nettamente decisamente uno sviluppo inferiore rispetto alle altre